musica come tutto come tutto usb andiamo potete chiudere siamo appena arrivati a Jakarta ci vediamo dopo e allora visto che ci hanno oferso bagagli a istanbul stasera suoneremo con queste fantastiche scatole di backup molto pratiche leggera comode comode grazie colosseo finalmente ci hanno ritrovato i bagagli con le scatole quindi siamo pronti con le maschere originali per stasera qui all'Astical Club Oxygen io mi volevo proprio fumare una bella sigaretta alla finestra ma come vediamo la finestra è blindata e non si può aprire un cazzo andiamo a fare il soundcheck dentro l'hotel